Magari il tipo era venuto a comprarci una dose e ha avuto problemi col pusher. Contatti con questo peluche ne abbiamo? Che? Eh? Pusher? Col peluche. Quindi sarebbe un omicidio. Sarebbe un omicidio perfetto. Però intanto io devo stare qui dentro. No, adesso li portiamo ai pizza. Mi faranno capo della polizia. D'Italia? No, del Congo belga. A cosa stiamo lavorando? Stiamo? Sei venuta a un inforzi? Sì, più o meno. Vedremo. Pasquale, lascia verde. Possiamo perdere? Sì. Se permesso? E non batti piatto neanche per sbaglio, vero? Già guallona mia! Ma questa è proprio scena. Prova e te una vera tosa! Ma chi è a quest'ora? Massimino, sei lì? Massimo? Non è che ci si improvvisa padre dalla sera alla mattina? Va bene. A parte un pelino, a me. Chi mi è rimasto? Non chiamarlo un pelino. Un pelino! Attento, prima o poi si deve svegliare, no? 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 È mi dai. Perfecto! Che? 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 Che batalla? Mi fai... Mi fai... Pena? Fina, grazie, mi veniva la parola, cioè mi veniva schifo, ma mi sa che te l'ho già detto, vabbè ho misto bene schifo dai.